4 mesi di lavoro per 203 lavoratori a tempo determinato della comunità montana dell'Ufita i forestali firmano il contratto per 102 giornate lavorative bisognava cominciare il 2 maggio ma i tempi si sono allungati in realtà come spiegano gli OTTD pronti a scioperare a Napoli il prossimo 16 maggio De Luca aveva promesso che le giornate lavorative sarebbero state 156 la richiesta è di rivedere la legge 11 sulla forestazione in modo che venga pagato un maggior numero di attività Se vogliamo risolvere veramente il problema dobbiamo lottare per questa riforma perché come siamo adesso tecnicamente serviamo a poco con la riforma, trovare i fondi da mettere nel bilancio avremo una situazione molto favorevole anche per togliere questo precariato avere delle funzioni, delle mansioni più importanti anche se queste lo sono per il territorio solo con la riforma 1196 possiamo vedere un futuro migliore